Salve a tutti ragazzi, sono Inferno86 e sono qui per presentarvi un nuovo gioco di strategia, diciamo nuovo, che si chiama Age of Empire Caster Sage. Il gioco è nuovo per Android, ma già è attivo su iOS e Xbox. Purtroppo questo gioco è un po' abbandonato perché non ha una chat globale e non si può chattare con altri membri. Si può solamente chattare con l'alleanza. Il gioco è veramente bello, ha una grafica molto carina e uno stile di combattimento molto buono. Cioè le truppe le potrete mandare dove volete voi, ad attaccare difese, mura, risorse e le truppe del castello. Il gioco va a ere, nel senso che ogni volta che potenzierete il vostro castello, che qua viene chiamato maschio, salirete di era e avrete altri potenziamenti. Potrete potenziare tutte le vostre strutture per farle evitare sempre più forti. Vedete, questo è il mio castello. È molto fatto bene perché avete, oltre alle torri dell'arciere che proteggono, potrete mettere le truppe sulle mura per proteggere. C'è la catapulta e più ci sono le truppe di supporto e le truppe di supporto alleanza. Io purtroppo ho l'alleanza ma sono da solo perché il gioco, non so come reclutare persone. Quindi spero che se qualcuno di voi guarderà questo video, si unirà alla mia alleanza e verrà a farmi compagnia perché il gioco è veramente fatto bene. Per accedervi dovrete creare un account Xbox Live. Penso perché è attivo più che altro su Xbox. Come vi dicevo è molto bello, ci sono molte cose. Ah, dimenticavo, potete scegliere la vostra civiltà. Io ho scelto i bizantini, poi ci sono i britanni, i franchi, i russi di Kiev, i saraceni e l'ordine teutonico. Ogni suo ordine ha un eroe, più che un eroe ne ha altri. Voi potrete reclutare gli eroi degli altri ordini, vedete qua ci sono tutti gli eroi che potete reclutare, acquisendo gli standardi che vedete qua sotto. Distruggendo gli altri castelli che hanno un ordine diverso dal vostro o hanno il vostro, potete reclutare i nuovi eroi. Ogni eroe ha il suo attacco speciale. C'è chi dà potenziamento alle truppe per essere più veloce, chi attacca le torri, chi aumenta la velocità di marcia e tutte queste cose qua. Lo potrete attivare sempre qua per, vedete, potete scegliere, io adesso ne ho sbloccati tre, potete scegliere l'eroe che volete. Ogni volta che sceglierete l'eroe e lo userete in battaglia, avrà un tempo per ricaricarsi, quindi ne dovrete scegliere un altro. Il gioco, ragazzi, è veramente fatto bene, è un po' abbandonato, purtroppo. Vi voglio far vedere una battaglia, giusto per farvi un'idea di come è strutturata la battaglia e il combattimento. Oltre alle battaglie contro altri giocatori avrete delle sfide eroiche, cioè dovrete abbattere dei castelli per prendere le risorse. Sono abbastanza difficilini e le truppe ve le danno loro, non userete le vostre. Vi daranno delle truppe per cercare di abbattere il castello e prendere i premi sopraindicati. In più avrete anche l'iscenare di addestramento. Qua facendo delle piccole missioni prenderete 20 monete d'oro, che sono le gemme a pagamento, diciamo. Non ce ne sono tantissime, però non sono neanche poche. Vi consiglio di non sprecarle perché poi vi serviranno più avanti. Niente, ragazzi, il gioco è molto bello perché, guardate, è strutturato veramente bene. Potete sistemarlo come volete, purtroppo non ha un editing per le strutture. E dovrete spostare una cosa alla volta, quindi è un po' un punto a sfavore. Ma come gioco è veramente fatto bene. Ma andiamo a farci una battaglia. Sperando che ho fatto le truppe perché non mi ricordo, ma mi sembra di sì. Le truppe sono buone perché comunque sono a squadre, non sono singole. Nel senso che voi quando sbloccherete le truppe, quando farete le truppe, scusate, le manderete a squadre. Ora vi farò vedere questo qua facilino, poi ne faremo un altro assieme. Mandate giù le vostre squadre e potete decidere di mandarle. Adesso ne mando contro le torri. E mando l'eroe che potenzia l'attacco di tutte le truppe. Avrete anche catapulte, arieti, che sono veramente forti. Potete decidere voi dove mandare le truppe. Cercate di mandarle a distruggere prima le difese. Le catapulte perché sono le più maledette. e le caserme, diciamo, dove ci sono le truppe che si riformeranno. Ogni volta che abbatterete le strutture o il castello vi daranno delle chiavi che vi serviranno per aprire degli scrini che avrete ogni giorno. ne avrete nove ogni giorno se non mi sbaglio. Prenderete le risorse e gli standardi che vi serviranno per sbloccare nuovi eroi o per per i potenziamenti del castello. Vedete, è fatto veramente bene. Anche le truppe è un po' piccolino. Però non è male veramente, ragazzi. provatelo ora cerchiamo di abbattere tutte le torri bene. la battaglia sembra sia andata a buon fine. Potete potenziare le truppe potete potenziare i vostri marchi in genere nel senso le catapulte che sbloccherete più avanti gli onagri scusate poi ci sono le torri che si appoggeranno alle alle mura per entrare nel castello ci sono diverse truppe e ogni truppa ha il suo compito questo è stato furbo hanno solo da un lato anche di qua li ha messi noi li andiamo purtroppo devo usare tutte le truppe ragazzi e dopo mi toccherà usare le gemme per rifare un altro combattimento perché ci vogliono mi sembra 12-13 minuti per fare tutte le truppe gli arieti qua sono un po' lenti ma fanno un casino di danno infatti abbiamo fatto un bel po' di risorse ragazzi il gioco purtroppo è un po' abbandonato perché veramente guardate che merita un casino cioè a differenza dei del clash of clank o clash of clank scusate la mia pronuncia babba il gioco è veramente fatto bene cioè guardate anche comunque come colpisce l'ariete cioè di grafica è fatto veramente bene solo che abbandonato non essendoci una chat globale non abbiamo non possiamo reclutare nessuno non possiamo parlare con nessuno e questo qua purtroppo è un punto a sfavore ogni tot vi danno delle ricompense di combattimento le risorse ne servono un casino i tempi i tempi non sono così esagerati nel senso per sbloccare il magazzino a livello 5 ci impiega 5 ore non è neanche tantissimo poi magari più avanti ci vorrà di più ma in confronto agli altri giochi non è veramente tanto qui abbiamo i potenziamenti possiamo sviluppare nuove nuove cose qua adesso mi richiede di sviluppare la basilica di santa sofia a livello 2 mi servono 9000 di legno potete fare dei potenziamenti ci sono diversi potenziamenti da fare sia questo qua il palazzo della magnaura e la basilica di santa sofia producono gli standardi del vostro ordine che vi serviranno per fare alcuni potenziamenti infatti vedete qua ne richiede 100 di standard e 4500 di pietra poi penso che andando più avanti di era potete sbloccare i nuovi eroi adesso vedete ci vuole 15 minuti se non mi sbaglio a recuperare l'eroe e ne scegliamo un altro più standardi fate di altri di altri ordini più eroi potete reclutare vedete qua ce ne sono mi mancano ancora i franchi saraceni e l'ordinente eutonico poi penso che quelli sotto si sbloccheranno ah ok quando porto la sala degli eroi è livello 2 che ci vuole 15.000 di cibo e ancora non posso farlo niente ragazzi andiamo a farci uno scenario per farvi vedere per prendere le gemme vedete qua a niente alle torre dei balestrieri e ci danno quelle truppe lì che vedete in alto scusate un po' di lag allora adesso per abbattere questi questi la torre dei balestrieri e la catapulta mandiamo prima la nostra truppa che loro saliranno le mura e siccome i balestrieri no la torre non ha questa infatti abbiamo perso subito sperando che riusciamo a farlo ragazzi perché mi sa che dovevo mandare prima loro e poi mandare infatti mi sa che perdiamo forse forse ce la facciamo no infatti allora la rifaccio ragazzi perché dovevo mandare prima le truppe cioè prima le catapulte poi le truppe così intanto ammazzano allora riproviamo allora facciamo così mandiamo prima le nostre catapulte così distruggono la torre dei balestrieri e poi quando la torre è distrutta ci mangiamo le truppe perché la la catapulta ha un raggio per colpire che misero quindi cioè è largo ma ha un punto cieco e quando attaccherete con le truppe la catapulta non ce la farà distruggere vedete abbiamo preso 20 gemme ora vediamo se riusciamo a fare qualche potenziamento ecco mi servono un po' di risorse e non ne ho vediamo se sblocchiamo queste truppe qua vediamo se riusciamo a fare qualche altro potenziamento così vi voglio far vedere un un attacco non posso potenziare un cazzo però questo mi richiede poco voglio usare il cibo ragazzi perché se no lo spreco vabbè fa niente andiamo a farlo lo stesso facciamo una sfida storica giusto per farvi vedere anche questa cosa consiste sicuramente perderò perché sono abbastanza una sega vogliamo fare questa qua lo scopo è vi danno delle truppe e dovrete cercare di abbattere il castello lasciandovi indietro tutto mica questo qua è una best ragazzi dovete scegliere il punto dove schierare le vostre truppe e massacrarli io direi di farle partire di qua tutto assieme vediamo se ce la facciamo ma mi sa mi sa che perdiamo ragazzi perché qua è un massacro sono molto difficili questi livelli dovete trovare il punto dove attaccare per cioè guardate quante truppe ha in difesa da questo quante poche truppe mi dà già le truppe gialle diciamo che ho mandato sono già crepate tutte quindi non vi danno purtroppo via via di scampo cerchiamo di ok una cosa è fatta vediamo se riusciamo ragazzi lo stesso ad abbattere il castello se battiamo il castello magari lo facciamo da questo lato così la catapulta non ci colpisce se le truppe si svegliano ma se non le prendete in tempo muoiono subito quindi ormai siamo siamo fregati ragazzi ce la potevamo fare ma non ce la facciamo più purtroppo ci hanno dato poche truppe è un po' un casino sono un po' difficilini come livello però ragazzi voi magari siete molto più bravi di me sicuramente provateci e vedete come se riuscite a farlo così prendete le risorse e vi potete potenziare un pochettino più in fretta niente ragazzi il gioco come dicevo è molto bello è ben strutturato vi faccio vedere gli scrini questi qua sono i 9 scrini giornalieri avrete la possibilità di trovare uno scrino d'oro e 4 d'argento o quelli normali io infatti vedete l'ho trovato uno normale vi da le risorse vi può dare monete d'oro standardi comunque la maggior parte che vi da sono risorse niente ragazzi il gioco è molto bello se volete unirvi scaricarvi il gioco e unirvi alla mia alleanza perché sono da solo e mi fate un po' di compagnia magari ci facciamo qualche battaglia assieme perché veramente è un gioco veramente ma veramente bello provatelo scaricatelo cercate la mia alleanza e unitevi a me niente ragazzi che dirvi come sempre vi ringrazio per la visione del video e vi ricordo di mettermi mi piace e di iscrivervi al mio canale ciao a tutti dal vostro inferno 86 alla prossima